Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video Dei Cinghiali sul Tubo. Quest'oggi volevo presentarvi Battle Brothers, un gioco creato dai tedeschi della Overhype Studios, in cui noi gestiremo un gruppo di mercenari, partendo dalla gestione delle vettovaglie fino al combattimento. Il gioco è uno strategico roleplay game a turni. Per farvi capire come funziona il gioco, andiamo direttamente in una nuova campagna. Qui possiamo creare il nome della compagnia, chiamiamola Cinghiali sul Tubo, un nome fantasioso, puramente di fantasia. Cerchiamo un cinghiale, eccolo qua, lasciamo difficoltà normale e iniziamo. Appena entrati in gioco ho messo subito pausa, così possiamo parlare un attimo di questa visuale, delle due visuali presenti in gioco. Quella della mappa del mondo, cioè questa qui, e quella di strategia, quindi quando noi andremo in battaglia, in questo caso cercherò di attaccare questo nascondiglio di banditi. Ora, questa sembra una semplice mappa. In verità è una mappa creata random, ogni partita sarà diversa dalle altre, in cui, anche se noi stiamo fermi, il mondo ha vita a sé. Per esempio, facciamo un esempio, qui vedo che sta partendo una carovana. Questa carovana, mettiamo, vorrà andare a questa cittadella. Se viene attaccata, magari qui c'è un gruppo di banditi, e l'attaccano e riescono a vincere, quindi a conquistare quello che trasporta, magari questo gruppo di banditi riassumerà, assumerà un parolone, si ingrantirà, mettiamo, sarà più forte e magari, diviso in due, attaccheranno ancora più carovane. E può essere che a questo punto o la cittadella o la città di Dornen ci diano un contratto di lavoro per attaccare questi mercenari. Se noi interveniamo, mettiamo che noi l'abbiamo già seguito per i fatti nostri, questa carovana, e riusciamo a portarla a destinazione, avremo quindi dei mercanti con più denaro e quindi con più risorse da vendere. Questo è solo un piccolo esempio, un altro esempio può essere un raid orco che riusciamo a interrompere, magari loro scappano, e la prossima volta che li incontreremo avranno meno unità dato che li abbiamo già uccise. Questo è un po' l'esempio, c'è il permadeath, quindi dobbiamo stare attentissimi, è un gioco molto difficile. Ora vediamo, dopo questo breve riassunto della mappa di gioco, come è configurata la Wii. Quindi in alto abbiamo le corone, che sono semplicemente il denaro che abbiamo a disposizione. In basso potete vedere quante corone spendiamo al giorno. E in più ci dice, dato che ne abbiamo mille e cinque, che mantenendo questa composizione del gruppo avremo sessantadue giorni di paga, assicurata, dopodiché i mercenari saluteranno. Queste sono le provvigioni, per quanto tempo potremo sfamare i nostri mercenari. Ci spiega anche che in media un uomo mangia due provviste al giorno, ma di più se li facciamo andare in territori più difficoltosi. Finire le provviste comporterà al nostro gruppo, oltre che un abbassamento di morale, anche la possibilità che i mercenari se ne vadano, più che morire di fame. Poi abbiamo l'icona delle riparazioni. In poche parole, noi con un punto a disposizione su Tools e Supply, possiamo riparare fino a 10 punti condizione di un oggetto. Ovviamente finire questo punteggio ci comporterà a mandare in guerra i nostri mercenari con armi non riparate o addirittura rotte. Qui abbiamo le munizioni, che servono ovviamente per ricaricare fionde, archi, eccetera. E l'ultimo le medicine, che servono per curare. Quindi un punto di medicinale ci permette di curare 10 punti ferita di un personaggio. E infine c'è il roster, l'ultimo punto importante da guardare. Qui abbiamo, per ogni personaggio, l'inventario, l'equipaggiamento, le sue abilità, le statistiche, quanto prende di paga, e le sue perks. E quindi sarebbero le sue abilità. Ma torniamo nell'inventario. Per prima cosa armiamo questo personaggio, dato che non ha assolutamente nessun equipaggiamento. Tra l'altro avete visto come ho aggiunto un'arma, sono apparse subito le abilità dell'arma. Sono molto importanti in combattimento, perché andremo a utilizzare queste abilità per combattere. Queste sono le sue abilità, in questo caso le sue abilità passive. Vedete che guadagnerà Ice, avendo un background d'apprendista, un 10% o più di esperienza. Ha più 10 iniziativa, essendo un personaggio veloce. Ha dei bonus nell'abilità a distanza e da vicino. E in più ha un più una visione, che è ottimo, poi lo scoprirete perché quando andremo a vedere il combattimento. Qui abbiamo il nome, possono essere rinominati. Pettiamo il mio nome qua. Pettiamo i tre del canale dei cinghiali, così non ci sbagliamo. Questo ci mettiamo Griffias, e qua ci mettiamo Tarabuso. Ecco fatto, così abbiamo fatto tutti e tre. Potete vedere che ogni oggetto ha le sue statistiche. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ecco qua. Questa addirittura è incantato, ma per ora lo lasciamo lì. Andiamo a vedere il buon Griffias, quindi a 10 frecce, tutto a posto, con l'arco. 30 armatura, 10 armatura. Ok, qui come vi dicevo abbiamo le varie statistiche del personaggio. E qua su invece abbiamo il perks, quindi le abilità che possiamo far prendere al personaggio di punto in punto. Si dividono, come vedete, in tre rami, offesa, difesa e utilità. Diciamo sarebbero quelle di supporto. E più punti mettiamo nella categoria, più andiamo a sbloccare, come vedete dalla nota in basso, della finestra, più andiamo a sbloccare abilità sempre più forti. Chiudiamo anche questa e entriamo nel villaggio. Togliamo la pausa. Entriamo nel villaggio dove possiamo vedere di volta in volta, in base a quello che abbiamo a disposizione, le operazioni da fare. In questo caso qui abbiamo un mercante che compra e vende quello che abbiamo o che vogliamo comprare. In questo caso non ci interessa niente. Aspettiamo, andiamo invece a prendere delle nuove reclute. In questo caso, come vedete, non abbiamo delle statistiche, non sappiamo chi sono, in cosa possono essere forti. Possiamo vedere solamente come sono armati, cosa hanno di equipaggiamento. Quello che ci aiuta a capire è il loro background. Leggendolo, capiamo, per esempio, se troviamo un taglialegna, che c'è scritto che mi appare come un uomo robusto, che come lavoro fa il taglialegna, è ovvio che avrà una forza sopra il comune. Quindi in questo caso, se io cerco un guerriero da vestire pesantemente, ecco che ho trovato il mio uomo. Quindi il background non è solo una cosa da leggere così o da schippare completamente, ma è molto importante leggere e vedere cosa offre. Questo mi ispira, costa anche poco, prendiamolo, avrà una grande esperienza, andiamo a vederlo giusto per curiosità. Dov'è, dov'è? Eccolo qua. Quindi ha delle abilità che riguardano la daga, o meglio il coltello. Vediamo le sue statistiche, 47. Diciamo che per quello che voglio va più che bene, considerandolo ho preso più quasi come carne da macello per riuscire a compiere la prima missione. Questo lo chiamiamo Indy, in onore di Indy gameplay Ita. Poi, questo non mi ispira molto, ma lo prendiamo. Prendiamo anche Theoboldo, ha un'arpa come... Combatte con l'arpa, quindi potrebbe essere un utility, specializzeremo nella skill utility, nell'abilità utility. In questo caso, andiamo a vedere, abbiamo Griffiths, abbiamo Sarabuso, abbiamo Indy. Qui abbiamo... Questo è quello che... Combatte a cazzotti, quindi in quel caso gli daremo quell'altro coltello che abbiamo. E lo chiamiamo Aramir, di Aramir, Aramir, di Aramirro Games. Qua Theoboldo diventerà Muffman. Ovviamente non combatte con l'arpa, come dicevo prima, ma semplicemente ha un background da menestrello. Quindi in questo caso ha dei vantaggi o degli svantaggi in base, ovviamente ognuno ha il proprio background. Vedete? Comunque, andiamo a mettergli... Non ho più armi, quindi a lui si è detto di dargli il coltello. A lui gli diamo, al Bon Muffman, questa bellissima clava. E rimane per ultimo... Vediamo anche questo. Per ultimo rimane... Vediamo se ho la possibilità di avere altre 1.200, sì. Prendiamo qualcuno altro, magari già armato però. Questo con la balestra, 4.60, sì, direi... Anzi, questo 4.40, un altro arciere. E direi che ci siamo, abbiamo fatto un bel gruppo di 7 mercenari. Eccolo qua, è già armato, perfetto. Un hunter, quindi ottimo, questo potrebbe essere un signor personaggio. Lasciamogli The Hunter come titolo. Chi è che rimane all'appello? Ho messo Muffman, abbiamo messo Indy. Beh, un cacciatore, come cacciatore, ci mettiamo Ciccio Hunter. Che ci sta perfettamente. Ma voglio ancora rovinarmi di più, voglio... Potrei andare a prendere un altro, sono indeciso se assumerlo o no. Ma no, per il momento lasciamo così. Poi vedremo di volta in volta se assumere altri. Non vorrei che la paga... Andiamo a vedere quant'è la paga, intanto. Allora, in questo caso, dopo la discussione che ora vi salto, ci pagherebbe 300 corone. Dato che ci sarà qualche perdita, intanto prendiamo la nostra missione, ci sarà qualche perdita, ma ora non mi va di andare a spendere soldi, se non ci sono altri armati che chiedono poco, ecco, ci sarebbe questo Robert, che in effetti si potrebbe... si potrebbe prendere. Ma sì, prendiamo anche Robert. Così abbiamo fatto un gruppo di 8 persone. Ecco fatto. E andiamo a chiamarlo... Titolo Mister. E qui... Dail... Dailrick. A posto. Ecco fatto. Armato anche lui con il coltello. E con questo direi che abbiamo concluso la gestione e le nuove assunzioni per il gruppo dei mercenari. E possiamo avviarci verso la nostra prima missione. Andiamo ad attaccare il bel nascondiglio dei banditi. Come vedete adesso c'è scritto Wicker. Ovviamente ci siamo rinforzati e loro adesso appaiono molto più deboli di noi. Mentre invece prima erano praticamente impossibili. Mentre piove vediamo intanto come siamo strutturati. Per prima cosa in alto abbiamo il numero delle nostre unità contro le loro. Un piccolo riassunto di quello che succede. Le statistiche principali dei vari personaggi. Questa è la lista dell'iniziativa chi gioca per primo e chi è il prossimo eccetera. Le abilità che possiamo usare il diciamo non il passaggio del turno che è questo qua ma l'attesa passiamo temporaneamente il nostro turno per riprenderlo alla fine. E queste sono le varie sezioni per alzare abbassare la camera eccetera. Perché come vedete ci sono dei livelli e vanno sfruttati come anche le linee di tiro o di vista come un albero ci può non far vedere se c'è magari qualcuno qui dietro. Ora ovviamente questo da qua lo togliamo vabbè andiamo in ordine partiamo con me mi avvicino temporaneamente a loro senza esagerare passo il turno così quanti ne hanno con l'arco uno solo e allora vado incontro a quello con l'arco io con Tarabuso vediamo se riesco a farlo scendere non mi scende Indy invece con il suo coltellino lo mettiamo qua arriva qua perfetto Indy al suo posto poi Mister va verso l'arciere che mi sembra quello meglio di tutti l'arciere scappa vedi Mister ha già spaventato vediamo se riesco a farlo salire quassù ottimo Aramir no nessun passo avanti per Aramir passiamo il turno voglio far avvicinare loro Ciccio Hunter lo mettiamo qua sopra e passa il turno Griffey assalta l'arciere va qui e riesce anche a scoccare la prima freccia una cosa che non ho detto che ho trovato molto ben fatta in questa simulazione come vedete sembra quasi di giocare a un board game cosa che in effetti accade stiamo in in difesa quello che c'è è che la resa grafica nel suo piccolo è fatta benissimo ora vediamo voglio farvi vedere se mi riesce colpire questo personaggio perché visivamente vediamo quando perdono magari gli rompiamo un oggetto l'armatura l'elmo l'arma si ferisce vedete guardate vediamo se ecco già dovrebbe aver subito infatti vedete intorno al naso dei graffi indica anche senza starci a guardare con il mouse come è ridotto quel personaggio è una cosa molto carina e che trovo anche ben fatta vediamo di riuscire a toglierci intorno subito lui allora non siamo fortunatissimi facciamogli fare il giro a Tarabuso Delleric come dicevo insegue l'arciere che non so dove stia andando ha già capito l'andazzo e gli arcieri a questo punto daranno manforte al piano terra Aramir cercherà di finire perfetto quello che era stato iniziato e passiamo il turno sta Muffman che a questo punto lo facciamo retrocedere ancora non rischiamo ottimo bravo Griffias altro colpo per Griffias i nostri arcieri stanno andando abbastanza bene ovviamente se troviamo dei non morti o dei licantropi o altro troveremo comunque varie creature anche umanoidi perché si parla di mondo fantasy non è un mondo medievale e basta nemmeno un low fantasy quindi possiamo trovare vari tipi di creature che reagiranno di conseguenza in base anche al nostro armamentario un esempio posso farlo con gli zombie se noi andiamo ad ucciderli c'è una possibilità che rinascano anzi più che una possibilità e quindi dovremo combattere più volte prima di eliminarli del tutto a questo punto lo farei scendere ha fatto un giro che più stupido non si può eccolo dov'è il loro arciere adesso è tornato di nuovo in vista eh no per scendere purtroppo devo fare dei giri assurdi quindi passiamo il turno anche Aramir si avvierà verso l'arciere a questo punto Muffman che finora era un po' l'uomo della fuga qui abbiamo un bel bandito possiamo mettergli solo una breccia è ottimo gli arcieri come vedete sanno dire la loro in questo gioco tranne Griffiths in questo caso il gioco poi continua così finché lo scopo di questa partita di questa sessione ovviamente uccidere tutti i banditi e ce la sto mettendo tutta quindi è rimasto qua su fare un giro assurdo per farlo scendere ora inizia la caccia all'arciere mi è successo anche in altre partite che finivano con questa caccia all'arciere che è scomodissima spero che questa cosa venga risolta presto perché l'arciere che scappa davvero è è molto noioso vediamo se riusciamo a toglierci di torno questo bandito oddio tra poco colpivo colpivo me perfetto qui c'è un altro bandito eh Griffiths è un cecchino penso che a breve scapperà costui beh loro lasciamoli lì tanto ormai sono molto lontani ha provato un colpo da 10 lode ma direi che uno 0 spaccato è quello che si merita Muffman lo facciamo avvicinare lo facciamo avvicinare lo famo da bene anche famo loro ormai lasciamo lì qua tanto non non servono più l'arciere lo finiamo con i tre che lo inseguono direi che a vita breve perfetto devo dire che è stata una partita sontuosa eravamo in netta supremazia ma è andata bene qui possiamo vedere un riassunto di come è andata l'esperienza ottima quella di Griffiths che ha ucciso tre persone questo è il loot ben meritato che abbiamo trovato perquisendo i vari corpi e possiamo lasciare questa battaglia vediamo se a questo punto senza andarla a consegnare se riesco a farvi vedere un passaggio di livello ma pare non ci sia arrivato nessuno no nessuno abbiamo trovato anche un bel gruzzoletto andiamo comunque a consegnare il nostro contratto ed ecco fatto con questo vediamo in quanto sopravviviamo 17 giorni devo dire che essendo un gruppo folto essendo un gruppo numeroso rischiamo la nostra vita ma è venuta una bella sessione vediamo se c'è l'esperienza no l'esperienza la consegna non c'è c'è solamente combattendo con questo io penso di avervi detto quello che c'è da sapere di questo gioco è divertente nella mia partita mi sto divertendo va precisato che è un titolo nearly access quindi lo trovate su steam e metterò il link nei commenti della pagina di steam non può che migliorare con questo io vi saluto spero vi sia piaciuto questo video condividetelo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per osservare tutti gli altri nostri video e ci vediamo prossimamente ciao a tutti ciao a tutti